fratelli e sorelle ciao a tutti ben ritrovati benvenuti in questo mio nuovo video buongiorno buona giornata buon mercoledì 21 giugno a tutti voi allora ieri intanto intanto quasi a voler confermare ma non ce n'era assolutamente bisogno la sua juventinità come ho scritto come ho detto e ribadito nel video di ieri sera il suo essere gobbo vero leonardo bonucci ha pubblicato questa storia su instagram molto chiara molto eloquente juventus punto in buona sostanza boni si toglie praticamente dal mercato io perlomeno così l'ho intesa ma questa dovrebbe essere chiaramente la spiegazione di questa storia leonardo bonucci rimarrà molto probabilmente alla juve forte come ho detto ieri dell'essere il capitano in pectore della juventus a voler fugare ogni veramente ipotesi di trasferimento di cambiamento di maglia lui rimane alla juve si gioca le sue chance di titolarità fino alla conclusione naturale del suo contratto che poi dovrebbe essere anche l'ultimo della sua carriera perché la prossima come detto ieri dovrebbe essere l'ultima stagione da calciatore di leonardo bonucci ragazzi vedremo vedremo ma insomma leonardo bonucci gobbo vero io ribadisco quello che ho detto ieri quello che ho scritto sui miei social quando è uscita questa storia come detto di leonardo bonucci e poi ragazzi e poi ieri è stata la giornata di arec milic alla juventus come avevamo detto nei video precedenti era atteso a torino il procuratore di milic juventus e olimpic marsiglia hanno trovato l'accordo per quanto riguarda poi i dettagli aspettiamo le ufficialità che dovrebbero arrivare oggi nel pomeriggio in buona sostanza la fer si chiude con 6 milioni che vanno al al marsiglia sicuramente saranno rateizzati pagati chiaramente in più esercizi più un milione di bonus poi come detto aspettiamo l'ufficialità per capire i dettagli gli anni di contratto di milic alla juve e quant'altro indubbiamente ha fatto la differenza alla volontà la volontà di milic di rimanere alla juventus dalla nazionale ha detto chiaro e tondo ha avuto anche sicuramente il beneplacido il suffragio praticamente totale di max allegri che lo ha confermato praticamente in insomma insomma in prima persona e quindi alla fine la conclusione naturale di questa trattativa non poteva che essere questa milic però diventa in questo momento un giocatore della juventus a tutti gli effetti una stagione la passata che alla fine possiamo considerare anche come positiva quella di milic alla juve 39 presenze 9 gol realizzati in tutte le competizioni in realtà sarebbero 10 in realtà sarebbero 10 perché in maniera truffaldina gli è stato tolto il gol del 3 a 2 contro la salernitana partita che avevamo vinto proprio grazie a milic perché andrea era scomparso magicamente dalle telecamere del var comunque in qualche modo milic in doppia cifra c'era andato un giocatore che si sposa alla perfezione con diciamo qualsiasi tipo di attacco perché milic può fare la prima può fare la seconda punta può giocare da solo davanti un giocatore che aiuta sicuramente la coralità della manovra è più portato all'aiuto all'abbassarsi per giocare risponda per fare come dicono quelli bravi a sportellate e poi comunque andare andare a chiudere l'azione io ricordo ad esempio il bellissimo gol che ha fatto contro l'atalanta al volo sul cross di nicolo fagioli alla fine alla fine ha fatto la differenza ripeto la volontà del giocatore la fiducia che in lui ha riposto max allegri e poi quando un giocatore a tutti i costi vuole la juventus e non viceversa per me per me è sempre un sì perché evidentemente alla juve non si sta così male ragazzi come qualcuno vuole far credere ed è poi ed è poi un colpo in virtù in segno di quella che è l'austerity del momento della juventus in fin dei conti milic a 7 8 milioni quello che è diciamo che è un lusso in questo momento per per la juventus questo è quello che la juve si può permettere se la juve vende vedi kulusevski poi dopo compra john elkan è stato chiaro è stato sibillino su quello che è stato sarà il nuovo corso non ci saranno più aumenti di capitale e quindi la juve deve fare di necessità virtù e in questo momento insomma un colpo come arec milic rimane un colpo perché è quello che la juve sostanzialmente si può permettere dimentichiamoci i colpi alla iguain alla cristiano ronaldo posto che ci siano ancora in giro giocatori di questa fatti specie tra cartellini ed ingaggio perché la juve queste robe qua abbiamo capito non se le può più permettere a meno che a meno che non ci siano cessioni importanti non ci siano introiti dal mercato rilevanti dalle cessioni dei vari vlaovic e federico chiesa lo ribadisco a scanso di equivoci io spero di no io spero di no io spero che non servano questi sacrifici spero che vlaovic e chiesa abbiano ancora voglia di mettersi in gioco e di dimostrare che si meritano la juventus se poi non si sentono più parte del progetto se ci sono attriti così incolmabili con allegri se non vogliono fare poi la conference buon per loro vedremo quello che succederà intanto ragazzi il primo colpo in entrata è stato effettuato arek milik è ufficialmente e al 100% un giocatore della juventus è tutto per questo video per questa prima ufficialità in entrata se ci saranno altri argomenti rilevanti e degni di nota e del vostro giudizio e parere in giornata ve li porterò sul canale ciao a tutti ai prossimi appuntamenti e come sempre fino alla fine vamo si dove in qualsivoglia momento a più tardi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti